ciao ragazzi un saluto da luca mastrangelo allora allora continuano continua il vespaio per quello che dico sempre e per le ultime cose che ho postato anche un pochettino su facebook dove dico e lo dico da convento che l'inter quest'anno deve vincere lo scudetto allora se vi ricordate bene in agosto o settembre a campagna acquisti finita io dissi l'inter quest'anno ha l'obbligo morale di portare a casa un trofeo perché altrimenti sarebbero dieci anni esatti alla fine di questa stagione senza che l'inter vince un trofeo e l'inter una squadra come l'inter il milan la juve non se lo possono permettere dieci anni senza vincere un trofeo all'inter non si può e dissi non si può dissi portatemi a casa lo scudetto va bene anche la coppa italia portatemi a casa qualcosa quest'anno non si può non vince un trofeo è iniziato il campionato e io ho detto ragazzi ma io man mano che passavano le partite nonostante l'inter avesse degli inciampi nonostante conte mi piaccia poco e non ho problemi a dirlo a me non è simpatico però nonostante tutte queste cose io vedevo le altre vedo le altre e mi faccio una domanda e dico ma l'inter ha una rosa più scarsa del milan per me no l'inter ha una rosa più scarsa del napoli per me no della lazio per me no dell'atalanta per me no della juventus parliamone poi la juventus vedo che pareggia col crotone vedo che pareggia col verona vedo che pareggia col benevento vedo che ha un allenatore che obiettivamente lo dicono anche gli juventini sta facendo l'apprendistato e forse non è preparatissimo ancora per fare l'allenatore della juventus allora mi dico ma perché quest'anno io non ci devo provare a vincere lo scudetto cioè io nel momento in cui vedo come sono messi gli altri e vedo che l'inter comunque lì attaccata al carretto delle prime nonostante tanti inciampi cioè quest'anno l'inter adesso ragazzi ve lo dico a non ha un obbligo l'inter quest'anno ha un fardello ha un fardello che è quello di vincere lo scudetto perché adesso vi faccio una domanda facciamo finta che fanta calcio giochiamo fantastichiamo facciamo finta che la juve quest'anno non vince lo scudetto possiamo noi dell'inter dopo tutto quello che abbiamo investito dopo dieci anni quasi che non vinciamo niente permettere che dopo nove anni di dominio juve vinca lo scudetto il milan possiamo permetterlo dopo nove anni di perculate dagli juventini fare i bambini diventare i bambini degli scappaccioni del milan sportivamente parlando ovviamente da chiacchiere da bar possiamo permetterci questa cosa no possiamo permetterci che lo vinca il napoli la roma di fonseca con tutto il rispetto poi premetto se il milan vincerà lo scudetto io sarò il primo a fargli complimenti se lo vincerà la roma sarò il primo a fargli complimenti se lo vincerà il napoli sarò il primo a fare i complimenti se lo vincerà la juve no non glieli faccio i complimenti però è lo stesso c'è l'inter quest'anno non si può permettere in caso di mancato scudetto della juve di non vincere lo scudetto perché altrimenti cioè io parlo da tifoso noi tifosi verremmo vessati in una maniera passeremo un'estate di merda proprio cioè io non ci voglio neanche pensare l'anno che la juve non vince lo scudetto che me lo vince il milan non è pensabile quindi se le critiche a conte da parte di gran parte della tifoseria se gli avvisi della curva verso i giocatori dell'inter fanno vincere la squadra e fanno capire fanno capire che quest'anno non è un anno del ci proviamo l'abbiamo fatto per nove anni il ci proviamo e non eravamo la squadra più forte e io non ho mai parlato di scudetto negli ultimi nove anni ma quest'anno il ci proviamo ragazzi non basta non basta cioè quest'anno ragazzi bisogna portare a casa questo scudetto perché io sinceramente cioè quest'anno lo scudetto non lo vince il più bravo lo vince chi sbaglia di meno sarà l'anno secondo me dell'outsider sarà l'anno che vincerà lo scudetto chi avrà un minimo di regolarità in più e finché non mi stancherò mai di dirlo finché parliamo di percorso tutto il mondo inter giocatori compresi saranno mentalizzati che va bene anche arrivare secondi terzi perché fa parte del percorso cioè noi l'upgrade siccome che a parlare nove anni di percorso non abbiamo vinto un emerito cazzo cominciamo a parlare di obiettivo cominciamo a mettere pressione come fanno tanti tifosi con conte o come hanno fatto i tifosi della curva con la squadra cominciamo a mettere pressione magari cambia se non cambia un cazzo non vinceremo niente come gli altri anni ma quest'anno è l'anno non del ci proviamo io non ci voglio pensare minimamente a uno scudetto che lo vinca il milan non ci voglio pensare minimamente quindi se mettere pressione all'allenatore mettere pressione ai giocatori funziona e gli fa fare quel click dove devono capire che quest'anno non c'è un è un anno di non ritorno sia perché come dicevo agosto è l'anno dei dieci anni senza trofei sia perché ragazzi se non ci proviamo quest'anno quando ci dobbiamo provare poi sono d'accordo che della gente da casa mi dice è ma luca ma manca il gioco hai ragione la rosa c'è ma manca il gioco la rosa c'è ma manca questo la rosa c'è ma manca quello ma ha maggior ragione l'inter è una squadra che in campionato è lì andando in terza cioè se la roma il milan le altre squadre fino adesso hanno mandato la macchina a palla e bravi loro noi fino adesso siamo andati in terza abbiamo l'obbligo di mettere sta cazzo di quarta e sta cazzo di quinta e di provare a vincere lo scudetto di provarci contro questa juve che mi pareggia col benevento col crotone poi per carità magari anche la juve si riprenderà e inanellerà un filotto di risultati positivi 7 8 10 poi non lo so ma la juve che abbiamo visto fino adesso ragazzi è una juve che non puoi star lì a guardare a parlare di percorso è il futuro è adesso l'anno giusto è adesso quando quando ci vuoi provare l'anno prossimo quando magari non c'è più pirlo e hanno preso un top allenatore o quando magari hanno sistemato il centrocampo che hanno un centrocampo che è pieno di problemi quando ci vuoi provare il prossimo anno è quest'anno l'anno buono quindi l'inter quest'anno ragazzi anche voi non parlate di percorso parlate di scudetto mentalizzate il nostro allenatore i nostri giocatori a crederci ad avere questo obiettivo perché lo ripeto finché parliamo di percorso facciamo il percorso ecco beh è come quando come quando una figa la vuoi trombare ma dici sempre boh la invita a cena non lo so la invita a fare un aperitivo non lo so perché va gli devi cavare le mutande se no non la chiavi è l'inter uguale vuoi lo scudetto devi parlare di scudetto se no farai sempre il percorso iscrivetevi al canale youtube clic 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 seguitemi su instagram clic 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 like alla pagina facebook clic 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 seguitemi anche su telegram clic 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 e con le campane lontanata come dico sempre fate quel cazzo che vi pare ciao